partenza da volterra sabato alle ore 8 e 30 130 partecipanti iscritti unico equipaggio ovviamente livornese e ce l'abbiamo qui accanto e al via è giovanni galleni che il pilota e gabriele lunardi che non è qui presente comunque è il navigatore correrà con la mitsubishi lancer evo 9 preparata da bernini rally di tortona e prossima gara poi ci sarà anche quella di cascina ma ne parliamo dopo allora intanto abbiamo qui il galleni e ci deve illustrare diverse cose una gara facile difficile com'è questa gara beh tutte le gare sono sicuramente molto impegnative è la coppa liburna che si è trasferita delle sterrati del volterrano quest'anno sarà più impegnativa del solito perché vai da per il campione italiano le prove da disputarsi saranno sei tra cui una prova mitica per gli appassionati di rally che è la prova di olignano che sta valida anche per il campionato del mondo rally di sanremo per tanti anni allora la domanda che nasce spontanea è questa la coppa liburna ovviamente liburna significa livorno alla fine dei fatti o sbaglio sicuramente sì allora la domanda che nasce spontanea è questa ma come mai la mitica coppa liburna non si svolge a livorno beh nelle zone scusa nelle zone livornesi le colline livornesi le nostre colline la valle benedetta il castellaccio e anche nibbiaia insomma tutte le gare tutte le prove speciali che hanno reso famosa la coppa liburna negli anni 80 purtroppo per restrizioni dal parte dell'amministrazione pubblica dal punto di vista dei permessi e tutto quanto la gara è emigrata inizialmente nel volterrano poi per due anni due tre anni hanno tentato l'automobile club ha tentato di rifare questa gara qui nelle nostre zone ma l'anno scorso purtroppo è anche saltata e quindi noi piloti livornesi abbiamo la mancanza della gara di casa mentre gli altri comuni toscani ne hanno delle province ne hanno veramente tante in lucca penso che si disputeranno addirittura quattro rally in un anno speriamo che questo serva per poter risensibilizzare le persone per poter svolgere la nostra coppa liburna sulle nostre colline strade casa e ti ringrazio senti per quanto riguarda la gara io ho detto prima della macchina mitsubishi no da profano ci dovresti ovviamente spiegare un pochino la macchina è mitsubishi tutti la conoscono le marche che conoscono però è un lancer evo 9 cosa vuol dire beh evo 9 è lo step della vettura la mitsubishi ha fatto vari step dalla 1 alla 10 e questa mitsubishi lancer evo 9 è una vettura a quattro rato motrici del gruppo n ovvero vetture derivate dalla serie accreditata di circa 320 cavalli e diciamo è una vettura nuova per me perché di lancer ho guidato la evo 6 e la evo 8 anni fa e l'anno scorso abbiamo corso con una subaru n 15 dove siamo arrivati dall'altro secondi del gruppo r con un po di problemi ma speriamo di dare il meglio anche se quest'anno la gara ripete per il campione italiano ci sono molti molti piloti più accreditati di noi che possono figurare bene certo tra la subaru e la mitsubishi ovviamente sono macchine diverse quindi come come ti troverai e cioè a parte le prove l'ha già fatte ovviamente beh domani abbiamo un test domani per poter provare questa nuova vettura molto probabilmente avremo a disposizione anche le nuove gomme hancock evolute quindi si spera di ben figurare vedremo di dare come sempre in tutte le gare il massimo e di portare a casa la macchina magari intatta parliamo del massimo nel 2015 nel gruppo r ovviamente se ti sei piazzato secondo ma alla fine del 2016 cosa ti aspetti beh 2016 le nostre apparizioni non saranno poi molte saranno alcune spot participemo sicuramente al rally di casciana terme che si disputerà a maggio qui nella provincia di pisa e non abbiamo ancora deciso con che macchina partecipare cercheremo di partecipare con una vettura più performante possibile in modo da poterci giocare la vittoria bene ti ringrazio e ovviamente ti facciamo tanti auguri a te e al navigatore speriamo che ti possa dare una mano eccellente e per quanto riguarda se detto prima il discorso della gara di casciana abbiamo il uno dei piloti livornesi perché penso unico no unico no ce ne sono tanti anzi io sono un livornesi traditore perché abito in provincia di pisa per cui mi permetti dire sergio domenici questo dobbiamo dirlo col navigatore navigatore gialluca nataloni ormai navigatore storico vent'anni che corriamo insieme e anch'io quest'anno farò pochissime apparizioni ma corro per puro divertimento insomma non hanno ancora istituito una categoria apposita di gentleman drive anche se tutti dicono così e ci chiamano così in realtà insomma si corre per passione poi ogni tanto qualche risultato comunque arriva senti un'altra cosa corri con io corro con una mitsubishi anch'io anche te c'è proprio questa dedizione alla mitsubishi è la solita tipo di macchina oppure è diversa come anche come cilindrata la stessa la mia è un evo 6 però preparata in gruppo a quindi è una 8 come categoria e faremo casciana sicuramente e penso anche se la faranno la liburna poi asfalto forse a novembre speriamo di sì e inizia la gara quando inizierà e quando finisce questa gara la gara casciana mi sembra che sia i primi di il 22 di maggio mi sembra il fine maggio sì comunque fine maggio si svolgerà tutta di sabato perché è un rally day quindi sabato verifiche e pre partenza e poi la domenica mattina iniziano proprio le prove speciali benissimo allora diciamo che l'intervista è servita anche per cercare di spronare un attimo tutti coloro che sono innamorati di questo sport o coloro che si vogliono avvicinare vi faremo anche vedere dei filmati e poi ovviamente finita finite le gare faremo vedere anche poi le macchine e presenteremo anche le macchine a tutti grazie arrivederci e soprattutto auguri grazie a voi auguri o ti dici?